e benvenuti in questo nuovo episodio di CAR DUTY MOTOFOR 4 quindi buona visione a tutti cavolo che artiglieria qualcosa mi dice che sono sull'edio eh infatti procediamo lungo la strada verso la cittadina e chiediamo conferma di copertura alleati in vista squadra, non attaccati i bersagli con segnale non preciente sono alleati ok allora come ecco come ok, svuco di telearmer uno è mitere di attività gratuito dei missili e poi non so forse può dei missili non aprite il fuoco sull'edificio veicolo in movimento uno dei veicoli è entrato in attività e un pinastro nemici in uscita dalla chiesa avvistati nemici in avvicinamento dalla chiesa richiediamo permesso di ingaggiare ricevuto permesso accordato ingaggiate i veicoli in movimento e tutti i nemici in uscita vai così fuoco ok, allora provo questo ah è fuoco rapido anzi no un buon ruotamento rapido mi piace boom che bello bombardare da qua ok ok, dove sono là? ah che bello cosi cosa tu guarda? oh no quale armati eccomi allora dove andare ma non ti credi dai beccano oh ok oh scusate eh perchè erano vizini ah i vizi d'acqua qui che bello dove? stupendo un po' confuso Ah no, ah no. Vai così. Ok, eliminati questi. Perché sono alleati? Ok, va bene. Va bene, ho capito. Non ingaggiate alcun veicolo sull'autostrada, salvo ordini precisi. Scommento che Coltizio è proprio contento. Guarda che mezzo aveva. No, se l'è fatta addosso. Wi-Fi, stiamo contrassegnando i veicoli. Confermate la ricezione dei segnali. La ricezione è confermata. Squadra, non ingaggiate i veicoli indicati dai segnali lampeggianti. Ripeto, non ingaggiate i veicoli indicati dai segnali lampeggianti. Sono alleati. Ok, ho capito. Che cavolo. Navigatore, richiedo dettagli sul percorso, passo. Personale alle armi, vedete quel serbatoio idrico, passo. Operatore, vedete il serbatoio idrico? Sì, questo. Il serbatoio idrico non c'è col vicino all'incrocio. Esatto, proprio quello. Vicino al serbatoio c'è una strada tortuosa. La vedete? Ricevuto. Seguite la strada fino al prossimo villaggio. Dovreste scorgere un altro serbatoio nel villaggio stesso. Abbiamo difficoltà a localizzare il villaggio. A che punto è della strada? All'incirca... Aspettate. Due chilometri da fuori. Guardate la tortuosa lasciando la torta. Ne vedo anche dei nemici. Ma morite. E non solo. Qui ha sparato con gli animici. Ricevuto, squadra, eliminate la strada. I rinaggiani del villaggio. Le dicono, coagliato in vista. Sta uscendo dal fine. Come siamo? Si tratta di messaggi osali per il suo cuore. Applige il fuoco. Vi stanno attaccando. Abbiamo vicino a me. Sguardo a seguito. Patto, eliminati. Eli eliminate la strada. I nostri ragazzi. Nemici sul tetto di quelle di P. 11. Oh, il diavolo! Ma ha distrutto un po' di auto da che ci sono? E' un po' di figlio, eh! Boom! Quello lì ha mangiato un po' di mesticale! E lo so! Però cosa posso farlo? Se i vincisi io ritiro da loro, eh! Eh, no! Quello l'ho visto! Eh, sto prontano! E' un po' facile! Boom! Boom! Fatti fuori! Sì! Sì! Anche se... Ah, no! Sono collegati! Sono collegati! Buono! Buono! Vuoi tenuto le palle! Come saltano! Come saltano! Uh! Perfetto! Perfetto! A dopo! Vai ragazzi! Questa puntata di Car Duty Pro 4 4 inizia qui! Alla prossima! Ciao!